allora ben ritrovati altra spinnata che vedano all'uscita al lavoro stasera potrei avere più tempo se america sennò a mangiare a casa quindi si comincia subito con il Wavingherry un lipless che nuota molto vicino al pelo dell'acqua secondo me sono abbastanza galla recuperato così sta a 20 centimetri anche sta andiamo a farlo calare un po' prima di recuperarli perché non c'è ne puoi sbabbinare ora si lascia andare giù non speravo piovessi stasera ma a quanto pare i voloni sono sempre in alvato c'è anche un po' di schenove da provare vediamo come si va un po' di sbobinare una sfida che si può provare la cavalletta, il WTB, il canchettino di superficie, il sciallo crank si può provare diverse cose si può provare diverse cose quindi iniziamo a provare via questo non so come si lancia eh male penso si lancia malino con la canna a truttare mi pare però questo potrebbe essere definitivo questo qui fa invece si lancia bene se non è tanta roba se non è tanta roba mancato cavolo non ce l'ha nemmeno provato ora ci prova mancato non lo convince lo servono anche così nooo cazzo ora serve anche l'ora di pigliarmi un'ora ci sono insomma un'attacca 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 lì qua mancato due poi dai ci sono c'è nemmeno due lì e sono qui a fine corrente manca anche questo dio buono non mi vedano ora mi ora mi ora mi non mi vedano non mi vedano nooo slamato cavolo buono questo per ora si leva ma dopo torna si leva perché quando inizia a girare big secondo me qui ci si si diverte non lo sai che prova allora provo questo troiaione non è una specie di scarafaggio della kingdom scarafola sfrutta tutta dentro così questo si mette così poi quelli che ho visto in terra nuova tassa di filo uno è a strappare la rifatta su la potete anche portare a casa io la metto in tasca per la serie rispetto allo stop lo spot e guardiamo non con ci sono qui è qui ti sono qui come si recupera stavamo senza paletta non voglio rimare con questi pelucchi neri ce n'è uno grosso dietro dai lo vediamo allo scovolino ragazzi anche questo bisol che io chiamo allo scovolino perché sembra uno scovolino ne avevano dato penso oggi danno a qualsiasi cosa si muove a galla eccolo eccolo perso? no no con il crank eh lo sapevo allora salmo mi ha slommato? eh mi ha slommato allora guarda eh no tra un po' mi pizzica eccoci per quale l'altra volta hanno scritto rispetto per i pesce zero non capendo a cosa si riferiscano visto che avevo anche l'amo singolo e le mani bagnate vai ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mandello. Poso. Oh vai. Questo si leva così. Che io non amo singolo. Oh. Questo mi callo. Guardate. Vai. 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 Vai.